Amici di Marchi Games, oggi su Golf Stefano Carminati ci consiglia per un video potreste fare golf ma poi solo fare buca citando Penso che lo chiameremo in maniera diversa ma molto simile dove non devi fare la classica buca Ma devi trovare l'escamotage così Loco almeno sarebbe stracontento ed è per questo che ho invitato Loco Siamo io contro di lui su una mappa che è super citabile a quanto ho capito Quindi possiamo, tu puoi fare quello che vuoi, puoi farla anche normale la buca, cioè non è che ti sto dicendo Tu puoi fare quello che vuoi però puoi saltare tipo qua Qua è facile perché c'è l'inghippo perché ho paura che questa qui non sia la buca Oppure possiamo fare e si può solo citare si può solo citare ok va bene sì ci sto quindi non possiamo fare quella limpa che parola Non possiamo farlo, dobbiamo cambiare buca Ok quindi facciamo Dove sei andato? Che è successo? Facciamo che la prima si fa normale dai fa la normale tranquilla Sì va bene normale ho sbagliato tranquillo siamo due per entrambi Ma si può sbagliare questa buca? Ma va bene Marci va bene Ma non c'è il salto scusa Ma non lo so Se non c'è il salto devi rifarla ho sbagliato allora Ho mai sbagliato non l'ho controllato Sì c'è il salto Ok quindi qua bisogna saltare Ok provo Vai dritto oppure torna indietro È giù bravo Ma da Marci Only one Dove sei andato? No Sei uscito Allora io ho fatto circa due Circa due ho fatto Circa due Ma purtroppo due Ma guarda dove sono finito Che bello Questa qui forse Poi tu puoi farla anche senza cittare Se la vedevi che era meglio senza cittare Tu puoi farla senza cittare È che in questa qui tu puoi cittare Esatto È bello cittare Ah qua non Qua o vai Non so dove vai Puoi tornare indietro Sì tu tipo torni E tu salti Aspetta se no si può andare Non lo so Ma se tipo io faccio così Cos'hai fatto Marci Dove sei finito Non ne ho idea Ma quella non è male Non è male come dia Ma sai che Mi sai che ho fatto una buona cosa Una buona cosa Però Forse non hai fatto la cosa migliore Quanti buchi hai fatto? Aspetta sono al primo tiro Vediamo se faccio buca Io ho fatto pa Ho fatto pa Io ho fatto all in one Ma come hai fatto? Sai che non l'ho visto? Sotto c'erano due tunnel di legno Hai ragione Sono stato stupido Perché noi possiamo farlo anche senza cittare Vabbè niente Va bene va bene Dai cosa ci sta Ci sta Allora è questa qui invece Allora questa O la fai dritta O salti Non so se riesce a saltare da qua Allora Sai che no Ehi qua non è Provo Ha funzionato Ma se sei qua No sono in buca Non vedi che sono in buca No non sei in buca loco Non ci Io provo andare indietro Tipo così Madonna Madonna È difficilissima Io la faccio Oggi faccio cagare Mi sa Madonna ragazzi Ce l'ho fatto Ma ho fatto all in quattro io Non è male Tre All in tre Buggi 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 Ok Perfetto Perfetto Non l'ho chiesto di mi piace Non l'ho chiesto di mi piace Non li sto chiedendo Da un botto di tempo in realtà Quindi raga Dovete lasciare Non so perché la stavo dicendo in inglese Dovete lasciare un mi piace Allora Faliv Like One like Yes One like For this video Please Ok Volevo dire quanti Però non lo dico Io direi che 3000 like si possono fare 3000 3000 like Allora ok Dovete Questa qui A sinistra Cioè Sali sopra la rampa E vai giù Così Ah cavolo Sì Hai ragione Sì È quello che pensavo di fare anch'io All in one Cioè Non ho fatto quella Buggi Non ho fatto un'altra ancora Io ho fatto questa qua E che all in one ragazzi Ma che all in one abbiamo fatto Ma che all in one abbiamo fatto Ok questa è bella Siamo troppo forti E quando vi si va Questa è bella Io qui faccio così guarda Ah così proprio What? Vabbè All in one Io ho fatto un altro modo invece Io l'ho fatta così all in one Ma volevo saltare in realtà Ma sì cosa si fa Ti insegno io Tac Deve ti parlare fortissimo Esatto Eh non ci posso No 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 Ok almeno due colpi va bene Ah me ho due colpi Almeno due colpi va bene Sai che sta riuscendo? Lo so Sono un pirla Sta riuscendo Laca raga Vabbè dai Undice Siamo tutti Siamo sempre lì comunque Non va bene Non va bene Allora questa qua Ecco puoi andare indietro Eh ma non ci arriva dietro Di dare una potenza atomica Allora rimbalzi davanti Tu mi indietro Eh sì Ci ho pensato anch'io Però è comunque No non ne vale la pena secondo me Mamma mia Eh avrei fatto la tua stessa cosa Ma non ne vale la pena Sei bloccato adesso tu Non è vero Guarda Faccio in tre In tre Quindi devo fare qualcosa Per cui non la faccio in tre All in free par Allora per farla in due Ah io provo a fare la legit Vediamo Vuoi fare la legit? Ci sta In effetti è facile Oh Come? Quando? Insomma Insomma il facile raga In tre se va bene Se va bene Se va bene Considera che era meglio cittarla secondo me Attenzione Ok tre va bene Va bene Calma raga Tutti calmi per favore Che qua abbiamo fatto tre lo stesso Va bene Va bene Oh sta mappa tosta Ma comunque siamo sempre sotto il pari In teoria al momento Siamo sempre sotto il pari Questo è facile in teoria Però secondo me c'è l'inghippo Non è da fare al massimo Tipo secondo me è così Vediamo Io ti lascio andare stavolta Ho paura Ma da marci Che leggenda Tre Era da fare Tre Alla mia Ho fatto canestro Ho fatto canestro Era tipo tre qualcosa Tre punto uno Esatto esatto Bene 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 Ma questa non era in città Eccola qua Questa è la mia Io però qui E chi vuoi fa? Mi sa che faccio quella sul lato dai Ok Ma cos'è quella roba Lì al centro Quell'angolo di legno Che vola Dov'è L'angolo di legno? E' lì Detto alla curva C'è una curva di legno È vero come si arriva lì scusami No ma cosa serve più che altro? Ma ci si arriva in qualche modo Ah lì Quella è una buga che parte da lì probabilmente Può darsi Ma io faccio tipo così Super chill così dici? Vediamo se va Non ci credo No Mi aspettavo che lo facessi sai Ma sono ripreso dall'inizio Certo non ti hai fermato Ma Dai tanto non è che tu ho tolto Tutti sti colpi Anche ho fatto tre colpi Ho fatto tre colpi uguali Ma sei un Abbiamo fatto uguale scusa Ma sei cattivissimo Ma abbiamo fatto quello stesso Fai niente ma io voglio stare sotto al par Cioè Eccola qua E questa cosa Qua non si può fare granché se non Eh la fortuna lì No si può saltare in realtà Madonna Ma si salta tutto Marci Così Non ho salto tutto niente scherzavo Ci ho provato Ma io so Io so sbarno tutto Che è successo Marci Oh madonna Buongiorno No ma dai Che sfiga Ma continua uscire Ma sono bloccato qua Ma continua uscire bro Io sono nella cacca Sono cinque colpi Sei colpi sono Ok ce l'ho fatta In sei colpi l'ho fatta Sette Sette colpi Sette colpi Sette colpi Dai raga Siamo sopra il par di un botto Questa è bruttissima Questa c'è È la fortuna questa Non lo so Oppure posso mandare direttamente lì a sinistra In questo modo Ha funzionato se ci pensi Più o meno Cosa sei andato Marci? Ci ho provato a fare quello che hai fatto tu Ma non ha funzionato Hai pensato di no Allora Io voglio fare una cosa del genere adesso Vado avanti E torno indietro Eh sì Io a sto punto vado tipo qua All in quattro Non sbaglio Quanti hai fatto Marci? Tre Tre? Par 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 va bene Va bene par Va bene par Raga va bene Va bene il pa Va bene il pa Ok Qui? Eh ma la buca che hai fatto te Era giusta? Cioè la seconda che hai preso? Eh sì Però Era meglio la prima Era meglio la prima? Mi faccio andare la prima Beh Così? Bello? Buono All in one All in one Va bene Va bene Ma quanto siamo forti? Dai che voglio andare sotto il par Dai che voglio tornare sotto il par Ok Ma si può saltare tutto? Beh ma se torni qui cosa fai? Allora attento che c'è un tetto lì sopra Eh ma infatti bisogna andare sul tetto secondo me Eh sì ma come? Ok ci sono? No 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 zi No Marci siamo uscito in grande Anch'io sono uscito Marci Suo modo per città la bellissima E che sarebbe? Allora se tu ti giri a destra Vedi una buca di verso il basso Sì Se vai sotto e tocchi con la buca No dai Eh ragione Ma è fallo Dai no non ci arrivo troppo piano Cavolo di pochissimo Eh ho voluto farlo Ah ma tu l'hai fatto nel normale scusa All in three No l'ho citata L'ho saltato Eh io no Non posso accettarla Sono troppo basso Prego fammi andare Perché sono bloccato nel legno Buongiorno Vabbè l'hai fatta giusto Sei dalla parte L'ho fatta i sei L'ho fatta Se entri Se entri E' entrato E' entrato Io sono entrato nella bandiera rossa C'era anche quella gialla raga Eh C'è tante bandiere Abbiamo un tre Ok 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 Tantissimi colpi Perché secondo me qua c'è un inghippo stranissimo Eh lo vedi quel tunnel lì Ma io penso che quel tunnel sia per scendere Non sia per salire Non si C'è ragione Allora Qui L'ho copiato No 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 ma questa io non l'accetto Io questa cosa non l'accetto Non è possibile Non ti ho copiato L'abbiamo fatta nello stesso istante All in one E torniamo Sul pa E daie Ok Qua che si fa Questa è bella Molto bella Ma qua c'è ogni buchino di lato Ok Devi andare nel secondo Perfetto All in one Oh porca mi sono fatto troppo forte Hai sbagliato Sì L'ho fatto Comanda nel terzo Vedi cosa succede No Mannaggia te Ma che sbagli All in two Va bene Eagle 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 Va bene Va bene eagle C'ho qualcosa qua sull'occhiere Non vedo niente raga Proprio sulla pupilla Cioè ma si può Qui Eh Eh Oh si fa così Ci ho pensato anche io Ma è troppo È troppo basso Secondo me Secondo me conviene far tipo così Guarda Cosa fai Bello Mamma ragazzi Cioè Come hai fatto Ragazzi Ragazzi Qua si è dimostrato Che qualcuno qua È un fenomeno È un fenomeno Mi vuole un applauso Ok Per forza Fatto Questa Questa era veramente letale raga Questa era veramente letale Questo te lo devo dire è bellissimo Allora qui dovete Oh Oh Non è difficile quello lì dietro di noi però Qui forse come andare in quella rossa Anche secondo me è quella rossa Tu ci vai Vai prova la testa volta Ha funzionato? No Non ha funzionato per niente Mannaggia Allora mi sa che la faccio Ho fatto troppo forte Secondo me qui è da fare a tre Un po' meno di tre Tipo così secondo me Io sono uscito Sono andato indietro No ti riporto indietro Sono Bello Ho l'in tre Par Ah tre era il par Hai già È stato fatto in quattro Quattro Buchi Raga Va bene Calma Ultimo buca Devo farla massimo in tre Vediamo se ha assistito lo solino Vabbè È facilissima Questa non vale dai cambiamola Eh dovevo andare Eh dovevi cambiarla per forza Questa non vale Troppo facile Cioè dai voglio farmi È troppo facile Ma voglio farmi il mio sotto il par Eh non va bene Non è giusto Va così Ma poi in quella più difficile Va andare No ma io me la faccio normale Scusami Ma non è giusto Cioè è troppo facile Ovidi è un troll Non era un troll A quanto pare All in one Vabbè troveremo tutto lo stesso Anche se non facevamo questa Purtroppo Ragazzi Ma Golf Ma puoi citare Portato a casa da Marci Se arriviamo A 4000 mi piace Lo riporto Con Nico Contro Buddy Insomma lo porto un po' con tutti Perché è carinissimo Come format Ci vediamo al prossimo Da Marci è tutto Ciao Ciao Ciao